Ben trovati in un aggiornamento con il TGD3B, drammatica la situazione per il maltempo negli ultimi giorni, una tromba d'aria ieri interessato il Polesine, a cui si riferiscono le immagini con addirittura dei vagoni abbattuti dalla furia del vento. Non è tutto perché tanta pioggia è caduta nei giorni scorsi su tutto il Veneto, la Lombardia e la Liguria, Fulinezia Giulia, precipitazioni veramente incredibili. Queste immagini si riferiscono al Muson dei Sassi, siamo sull'Alta Padovana dove ha rotto gli agini con l'acqua che sta uscendo e allagando molte zone, anche dei centri abitati attorno a Campo San Piero. Tanta è la pioggia come dicevamo, non solo in Lombardia ma anche sul Veneto, abbiamo superato i 200-300 mm di precipitazioni sull'Alto Vicentino con appunto allagamenti che hanno interessato anche la provincia di Vicenza per quanto riguarda la pianura ma non solo, anche Veronese e Padovano, le zone duramente colpite. Andiamo a vedere quello che succederà dal satellite nei prossimi giorni con sempre questa zona di bassa pressione tra il Mediterraneo e l'Europa centrale, l'alta pressione rimane molto a nord sulla Scandinavia qui con bel tempo. In sintesi le previsioni per questo weekend tornerà un po' di variabilità al centro-sud, specie domenica con delle piogge dei temporali, bello invece tutto sommato al nord a parte di temporali sabato e sera al nord-ovest. Le temperature saranno comunque molto miti, estive al centro-sud con valori anche fino a 30 gradi per lo scirocco, in aumento comunque anche al nord Italia con punte fino a 25-26 gradi in questo weekend. E poi la prossima settimana torneranno ancora delle piogge perché al centro-node Italia nuovamente si riattiverà una zona di bassa pressione con piogge temporali. Maggiori dettagli li trovate scaricando l'app di Trabi Meteo.